Ok salve a tutti raga sono ancora io Vincere a tutti tutti Uffa Pensavo che Questa nuova parte di Let's Play è il peggio che su Pensavo che se apriva lo stesso Non vedo te Presto 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 Appena il tempo Appena il tempo Ok stiamo dentro la chiesa Ci sono delle note La notte una Questa è la notte cazzo dentro! qua adesso si avviamo sarà ancora noia a continuare a scalare ma poi sono venuta a prendere le note l'acqua ok così e e... dobbiamo salire, dottor c'è il libro, il Mozart suona il suo organo con facilità, ma potete seguirlo con le chiavi? Ok, non male orso, ma ora guardami, copio questa corona e sorpreso, e sorpreendimi. Facile. Ok. Vai. Ok. Vai. Ok, comunque va bene come uomino, prendi uno di queste, prendi questo, come le compenze, sai vai. No, bisogna andare a salire di sopra. No, c'è un cuore. Non c'è niente qua, è solo fuoco, fiamma. Ok. Ok. Non c'è niente. Non c'è niente. L'altro non lo sapevo ancora di là, non lo insegno. Aspettate il vero. Ok. 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 dentro l'occhio, però. Come si fa? Ah, boh, se bisognerà, beh, romperlo. Oh, adesso devo uscire. Cacchio che suicidio. Ah, devo cercare di non crepare, però. Non so se riesco a trovare delle vite Comunque ecco Thank you, grazie Ci ha ringraziato Sembra cosa che dice fuck you Che dice thank you Vabbè Quanti cavos Vabbè non cuore Guarda che cavo Ma puoi entrare Ecco Ah si può entrare Ma non c'è un cacchio alla fine Ci sono solo piume rosse Niente di speciale Vabbè Che vuoi C'è un cacchio Forse da qui Forse da qui Che vede Ecco Ma non ci vuole Quante note Però non sono tutte perché vi ricordo che Nella parte precedente avevo Unica di alcuni che dovevano domarci A prenderle Quindi Io ci vedo la casa di Mambo E' un cacchio 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 sono già caduto io buona notte le sono prese tutte no aspetta però le sono prese sopra e come? ah ecco ecco questa luce è che non ci sono sì penso di sì che possiamo entrare prima vediamo cosa c'è ha delle note anche qua loro sono due prima dorate basta vai con la trasformazione ok ah ma un bordo vabbè ma vuoi uscire ma tanto non serve un po' che sia rotto ah eccola qua che devo mandare le note che avevo detto ultima volta non di qua ma di qua ecco qua e dobbiamo mettere qua dietro vedete vedete anche qua a meno si è più piccoli si può passare un po' più facilmente 10.000 ahia ma qua no por ok ok non sono tutte però ancora mancano ancora 5 di note non c'è qualcosa non c'è qualcosa ok 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 tu dovrai trovare il modo per salire di sopra salire di sopra però un casino ok ok non so più come salire però lo faccio un po', forse ho capito, non si può poco cani, non so più dove andare molto totale, ah guardate che c'è un mondo totale, ma perché rompono le pali sti mostri di merda ah perché forse c'era mica un tubo dove si può entrare qua vabbè non lo so cosa si può entrare comunque però tutte le nuote ma non ce le aiutano non riesco a prendere il il cicchio non 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 io non so più dove, ah ecco qua forse qua si penso che sia qua qua vedo ora qua non cadere aspettate eh, qua ecco qua c'era un icon ho preso l'ora ho preso l'ora ho preso l'ora ho preso l'ora beh che schifo siamo dentro questa schifezza tutta sta schifezza tutta sta schifezza ora lavati per le mani schifoso orso vabbè 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 che palle che sono tutti questi mostri Non ha fatto la canzoncina di quando si finisce, comunque lo diamo in totale, tutto di tutto, eh? Allora raga, esco. Wow, molto miglior. No, è col porco, zia, cioè? Oh, uff. E' un miglioro del tubaccio. E' un mambo. Ok. Ok. Adesso facciamo alzare l'acqua. In quella zona lì. Ok. Facciamoci rintrasformare lì. Ok. Ha detto che ha affamato e che la zumba è pronta. Cosa? Non lo so. Andiamo. C'è un'altra zona dove dobbiamo andare la zucca. Dobbiamo andare là. Per tornare. Ok. E quest'altra fare attenzione a non morire. Come ho fatto nella parte scorsa. E' piuttosto. Grandioso. Ok. Eccola. Qua, qua. Attenzione, veramente, perché è troppo rischioso qua. Stai zitta che mi sconcentri. Quando sarò... Quando sarò magra ancora, potrò ancora mangiare di nuovo hamburger e patatine fritte a voluta. Cosa? Ah, ha detto. Si, va bene. C'è un libro. Cito. Cito. Avete trovato... Avete trovato ancora? Ancora la cito. Se hai un'altra pagina che la vedo io ti trasformo. Le strappo tutto. Come è? Tutte. Red Fetters. Dovete andare a scrivere Red Fetters nel castello. Il castello. Di sabbia. Ok. E quindi... Porco! Lo sapevo, eh. Lo sapevo, eh. Vabbè. Ragazzi, io penso che... Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Tornate normale con un'altra volta. E la parte sta quasi per finire. Ragazzi. Magari prima vado su. Qua sono brava. E allora, per questa parte è tutto ragazzi. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.